Benvenuti in questo nuovo video sul canale, lo sto facendo talmente a caldo che non potete immaginare Adesso vi voglio spiegare tutto per filo e per segno di tutto quello che è successo Perché ieri ho caricato il video appunto aggiornamento su ciò che mi stava succedendo con il canale Ho delle novità, delle novità che sono completamente belle e niente di ciò sono contento Vi faccio una premessa, ieri ho visto gente che si disiscriveva dal canale Ragazzi, cioè, non è che da andare così, io vi ho detto semplicemente che era una possibilità che ci fosse rimezione del canale Infatti adesso vi spiegherò come stavano andando a finire Nel caso vi fossete iscritti ieri, riscrivetevi e se foste nuovi a caso guardate sto video Allora, cosa è successo? Ieri ho passato tutta, tutta la giornata, dalla mattina alla sera a provare a sistemare sta cosa del canale Abbiamo chiamato YouTube, ho sentito vari network per farmi aiutare e siamo arrivati ad una conclusione La conclusione è stata un po' un escamotage, abbiamo un po' raggirato il sistema, tra virgolette Perché se volevamo sistemare il canale ci vorrevano veramente tantissimo tempo L'unica cosa è che ieri vi dico solo che mi stavo mettendo mezzo a piangere Perché era al telefono e mi dicono, eh guarda se ti eliminano Google Plus ti eliminano anche YouTube E io ero così Cioè stavo proprio male Fidatevi che non è una bella cosa sentirsi dire l'eliminazione del canale è probabile Quindi cosa abbiamo fatto? Niente, ho lasciato tutti i miei dati Ho dovuto lasciare i dati a questa persona qua E niente, lui ha scritto YouTube, ha fatto tutto, mi ha richiamato e mi fa Guarda, ci sono due metodi per sistemare sta cosa Per vie lunghe, ovvero che facciamo il ricorso Cioè contestiamo quelle email lì che ci hanno mandato Ma ci potrebbero volere anche dei mesi L'unica cosa è che raga, io non posso aspettare due mesi per dire Perché allo secondario di due mesi cancellavano E io che cazzo faccio? Contesto dopo due mesi magari Dico, oh sì grande hai contestato per bene Va bene, sistemiamo tutto Quando già il canale me l'hanno cancellato E quindi niente, la seconda opzione era quella di cancellare la mia vecchia pagina Google Plus Che già era stata cancellata E di trasferire il canale su un'altra pagina Google Plus Ho perso un sacco di cose ragazzi Il verificato sul canale Se notate, di solito c'avevo la V Forse me l'hanno già rimessa ma non credo La V sul canale Ho perso un sacco di commenti Tutti i commenti che ho lasciato durante dei video vecchi Che erano fatti con Google Plus Sono stati cancellati Ho perso davvero un sacco di cose Che purtroppo ho dovuto perdere Perché non me la sentivo di aspettare troppo tempo Ho fatto questo scamotaggio E ora in teoria, in teoria Io non voglio mettere già le mani avanti Dovrebbe essere tutto a posto Ora sto aspettando che qualcuno mi invie un'email da Google Per cercare di capire se è tutto a posto Però dovrebbe essere tutto a posto Io voglio dirvi una cosa ragazzi Ieri ho caricato quel video Ho visto un affetto nei vostri confronti estremo Ho visto tantissima gente Che si è iscritta al secondo canale Io vi invito lo stesso Iscrivimi perché a settembre comunque ci sarà un progetto importante E lo terrò attivo lo stesso E comunque veramente L'affetto che mi avete lasciato nei commenti Ho dato la pelle d'oca Perché veramente non me l'aspettavo Tutto questo affetto dei vostri confronti Dovremmo aver sistemato Anche grazie a voi ragazzi Sono riuscito a stare tranquillo ieri Anche grazie a Irene Martina Che erano lì con me Che mi hanno visto con gli occhi lucidi Tutta la giornata Perché stavo malissimo Anche se facevo delle battutine del piffero Tipo ma sì dai se ti chiedono il canello ti ribustiamo noi Erano delle battute che forse in quel momento lì Erano le poche cose che mi aiutavano Perché davvero ero una persona a pezzi A terra Non stavo proprio Non riuscivo a fare niente Cioè eravamo usciti per lavoro Non riuscivo proprio a fare niente Era proprio una cosa devastante Per fortuna forse siamo riusciti a risolvere Vi torno aggiornati domani Con un nuovo video di questa mini serie Tra virgolette che sto caricando Nel quale vi dirò se tutto è a posto Teoricamente dovreste non vedere neanche l'icona del canale Ne ho messo una a caso Adesso una foto di Instagram Magari sceglietevi voi su Instagram La foto che vi preferite Ditemela sotto nei commenti Che metteremo un nuovo avatar E niente Ieri ho pensato al peggio Quando ho visto il canale con l'icona M Viola Io lì ero proprio Stavo malissimo Comunque niente ragazzi Dovremmo aver sistemato Ringrazio davvero Tutti Ringrazio Andrea Che mi ha aiutato un sacco Veramente grazie Andrea Che veramente ha fatto di tutto per me E niente Vi saluto Dovevo rendervi Mettervi al corrente di tutto ciò Sono ancora un po' Mezzo scosso Ieri mi avete visto Che ero mezzo Con gli occhi lucidi Alla fine Perché Mettetevi nei miei panni In due anni Quasi Quasi tre anni Quasi quattro anni di YouTube Tre anni e qualcosa Sarebbe stato buttati così Al vento Con questo canale Insomma E niente Quindi ragazzi Grazie di cuore e tutto l'affetto Continuate a seguirmi su Instagram E su Telegram Dove lì ragazzi Metto tutte 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 Le cose di aggiornamento Che possono essere del canale Quindi niente ragazzi Vi saluto e vi ringrazio Grazie di aver visto il video Bella Ciao Però qua c'è sta cosa qui Non si può fare Devo fare così E fare così Ecco Ecco Grazie a tutti